Il Catania Beach Soccer è pronto per affrontare la prossima tappa qui da Pescara, si riparte per questa avventura dopo la prima tappa che è stata vittoriosa su tutti i fronti perché il Catania è a punteggio pieno. Qui accanto a me c'è il team manager del Catania Beach Soccer, Giuseppe Bosco. Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera a tutti voi. Giuseppe, iniziamo commentando quella che è stata la prima tappa, è andata così liscia come l'olio perché il Catania si è imposto su tutte e tre le formazioni con cui si è confrontato, il Mare di Roma, Bari ed Eboli, tre vittorie fondamentali per iniziare bene questo nuovo campionato. Sì, tre vittorie fondamentali che sono stato frutto dell'impegno della squadra durante gli allenamenti e durante tutta la preparazione che appunto ha preceduto queste tre partite. Il Catania ha ottenuto appunto nove punti, ci presentiamo a questa seconda tappa in testa al campionato. Abbiamo appunto tre partite difficili da affrontare. Abbiamo appunto Catanzaro, abbiamo Roma, una squadra che punta appunto allo Scudetto e poi affrontiamo Terracina in una rivincita che appunto la squadra che ci ha buttato fuori dalla Coppa Italia. Provevamo a fare bene. Proprio su questo Peppe ti voglio stimolare perché il Catania è l'unica squadra a punteggio pieno del Girone Sud, mentre le altre formazioni, in particolare Catanzaro, Roma e Terracina che sono proprio le prossime avversarie, hanno avuto almeno un passo fasso nella prima tappa. Quindi questo cosa può voler dire? Un piccolo vantaggio da sfruttare e mantenere per arrivare primi nel Girone Sud, no? Diciamo che appunto questa seconda tappa è la tappa dove noi affrontiamo le tre squadre che ambiscono come noi allo Scudetto. Nelle prime tre partite abbiamo avuto degli scontri un po' più abbordabili, ma che si sono rilevati alla fine sempre delle gare difficili. Abbiamo vinto con pochi gol di scarto, gare difficili come quella di Bari. Quella con l'Eboli è stata una gara che alla fine è stata pesante, però abbiamo sempre sofferto. Ora ci aspettano tre partite pesanti, speriamo di fare bene. Da chi ti aspetti qualcosa in più, dei giocatori del Catania, chi si è confermato fino a questo punto? Si è confermato Giuninio, aspettiamo ancora i gol da Stankovic. Fred si è comportato alla grandissima, è stata anche una gradita sorpresa per tutti noi. Aspettiamo anche l'innesto decisivo da parte di Romulo, di Gustavo Neri che è venuto a mancare nelle ultime due partite a causa di un infortunio. I portieri dovranno impegnarsi sicuramente di più anche nell'aspetto difensivo, sia i portieri che il tutto nel reparto difensivo. Speriamo di subire bene il gol. In conclusione, Pepe, ti chiedo un ultimo sguardo. Guardando la classifica del Giro del Nord, ci accorgiamo che in due tappe, Via Reggio forse è stata un po' la sorpresa di quello che è il Giro del Nord, perché con Gori, capocannoniere, si è confermato con sei vittorie su sei partite giocate, 18 punti a punteggio pieno, può essere in ottica Final Eight l'avversario da battere? Guarda, in assi di partenza era una matricola, è una squadra che si presenta al primo campionato di beach soccer e appunto l'attaccante si sta comportando alla grandissima. Il capocannoniere appunto del campionato avrà ancora lo scontro diretto con Milano. Sarà sicuramente una bella partita e sarà una squadra appunto al Via Reggio che ci troveremo sicuramente in finale, secondo me.